se ho culo il traffico si è liberato adesso qua è una rotatoria se dopo la rotatoria non è colonna sono salvo e mi risparmia un bel po di bestemmie una merda diolo hacker che traffico ancora dio mangusta guarda che lavoro c'è colonna ma forse 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 è abbastanza scorrevole almeno da qui perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dal dalla rotatoria invece l'altissimo super folgo mi ha ascoltato e ha tolto un po di traffico si vede dio guate malteco dio che anche rottura del cazzo il traffico dio boia impedisce di vivere impedisce di ragionare impedisce di fare i propri cazzi dio mega borg si quando c'è nel traffico magari ti fa qualche telefonata ti lanci qualche messaggio nel lettere ti guardi qualche porno ma in fin dei conti ti perdi tempo dio can che è la cosa che abbiamo meno in assoluto dio porco tempo eschei non che nemmo più dio can guarda che roba si viaggia si viaggia dio bestia guarda che meraviglia 70 all'ora 70 all'ora che ho raggiunto dio crono tachigrafo cosa ha perso mezz'ora però cosa ha perso mezz'ora in testa mezz'ora qua che avevo già scaricato il camion dio can già parcheggiato e tutto però vabbè pensavo di arrivare a casa e 8 invece forse arrivo a casa prima casa se faccio in tempo vado in paestra dio dio oscuro oggi 26 aprile dovevano aprire la parte interna della palestra invece godomanda e niente la parte interna della palestra se tutto va bene i cambi idea un'altra volta e sicuramente cambierà idea dio sboine gli apre il primo giugno ma i cambierà idea ancora dio cane lei da ottobre chi cambia idea dio cane chi morisce in cui ha dio porco dal negrone del whatsapp in casa dio can guarda che colonna cagè andare verso coso montecchio in pratica da qua a montecchio le tuta colonna 13 km 13 km di bestemmie e ferate di okan bestemmie come se piovesse bestemmie come se tempestasse dio opossum qua bisogna che stacca a sinistra perchè a dare